L'eterea Melissa Satta, la sirena che ha fatto breccia nei cuori del pubblico italiano, sembrerebbe aver gettato l'ancora nel porto dell'amore ancora una volta. Le vie di Madrid, crocevia di storie e passioni, sono state il palcoscenico di una scoperta che sta mandando in visibilio il popolo dei curiosi e degli amanti del gossip. Melissa sarebbe stata avvistata in dolce compagnia dell'ex fidanzato di Giulia De Lellis. Melissa Satta e Carlo Beretta. La nuova coppia dell'anno. Il mondo del jet set è in fermento di fronte a questa novità sentimentale che fa sorgere una domanda sussurrata tra i corridoi del pettegolezzo. È questa la nuova coppia destinata a rubare la scena? La Satta, con la sua indiscussa bellezza e la sua presenza magnetica, ha da sempre catalizzato l'attenzione del pubblico e dei media. Ma stavolta sembra che abbia riservato una sorpresa speciale che sta riscrivendo le dinamiche dell'amore tra le celebrità. Indizi e congetture. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma gli indizi sono lì, sotto gli occhi di tutti. Scatti rubati, sguardi complici, e una vicinanza che non lascia spazio a molte interpretazioni. I due sembrano fluttuare in una bolla di felicità, isolati dal resto del mondo. La Satta, sempre impeccabile e raffinata, appare serena al fianco del suo presunto nuovo partner. Si dice che i due abbiano condiviso momenti di pura gioia, esplorando insieme le strade della vibrante capitale spagnola. Melissa Satta e Carlo Beretta. Il passato alle spalle, non è la prima volta che Melissa fa parlare di sé per le sue relazioni. Dopo la conclusione del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, la showgirl ha preso il tempo di riscoprire se stessa prima di riaprire le porte al romanticismo. Ora, sembra che il vento abbia girato, portando con sé nuove promesse, e forse, un nuovo inizio. Aspettando conferme, il popolo del web è in attesa, appostato dietro le quinte, sperando in una conferma che possa mettere fine a tutte le congetture. Intanto, l'ambiente dello spettacolo sussurra, ipotizza e attende con trepidazione il prossimo capitolo di questa storia. Sarà davvero amore quello che lega Melissa Satta al bello e tenebroso ex di Julia Delellis? Oppure si tratta solamente di un fugace colpo di scena che si dissolverà come una bolla di sapone? Il tempo, come sempre, avrà l'ultima parola. Ma per ora, lasciamoci trasportare dall'idea che nel vasto universo dei cuori celebri, una nuova stella possa essere nata. E a noi, tenaci cronisti del cuore e dei sogni, non resta che osservare e raccontare, con la promessa di svelare ogni prossimo, piccante dettaglio. Melissa. Il mondo ti osserva.